Pararadidururà, pararadidurà, 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 pararadidurà. Eccoti qua! Non ho idea di quanto a lungo io abbia camminato per trovarti. Lo so, in realtà io sono sempre stata con te. Ma com'è possibile? Non ti ho mai vista? Eh, sono sempre stata brava a giocare a nascondino. Allora mi hai sicuramente visto insieme a quella strana persona. Come si chiamava? L'aviatore, dici? Sì, proprio lui! Era davvero simpatico. Peccato che sia dovuto partire così presto con il suo aereo. A proposito, ma cos'è un aereo? Sai, su questo pianeta, a differenza tua, gli uomini utilizzano gli aerei per volare e non aspettano le migrazioni degli uccelli salvatici. Di sicuro è più comodo, ma forse meno divertente. Ma cosa avete fatto tu e l'aviatore? Dovresti saperlo, visto che sei sempre stata con me. Sai, vedere le cose non è sicuramente come viverle di persona. Forse potresti raccontarmelo tu. Adesso che ci penso, forse non riuscivo a capire la mia rosa. Ma tu cosa vuoi sapere dell'aviatore? Vi ho visto insieme al pozzo. Avete fatto un bel lavoro di squadra. Hai proprio ragione. Non riesco a capire come abbia fatto l'aviatore a prendere l'acqua da solo la prima volta. Io senza di lui non ce l'avrei mai fatta. Eppure all'inizio hai voluto fare di testa tua, nonostante l'aviatore ti avesse avvisato. Volevo farcela da solo, non volevo essere come la mia rosa. In che senso? Lei non riesce a fare nulla da sola, ha sempre bisogno del mio aiuto. E allora perché alla fine hai deciso di rivolgerti all'aviatore? Perché mi sono accorto che non è sempre possibile farcela con le proprie forze. Hai proprio ragione. Alcune volte si dimostra una maggiore maturità mettendo da parte il proprio orgoglio e chiedendo aiuto, proprio come hai fatto tu. Ora capisco quello che intendevi prima. Quello che vedevo io non era quello che la mia rosa stava vivendo. Pensavo che fosse capricciosa e pretendesse da me tanti sacrifici, quando in realtà non poteva fare a meno di me. Come ho potuto abbandonarla? Non mi perdonerà mai. La rosa non pretende delle scuse da te, ma semplicemente che tu lì sia sempre amico. Allora devo tornare subito sul mio pianeta. Grazie di tutto l'aiuto che mi hai dato. E addio, anche se so che veglierai sempre su di me. Arrivederci, mio piccolo amico. Grazie a tutti.